Buonasera, sono senatrice del PD di Moncaglieri, la città dove Umberto Palermo ha l'officina e l'impresa che costruisce la Mole. Sono molto orgogliosa di essere qua oggi ad accompagnarlo a presentare il carrozziere del futuro che porta avanti le tradizioni del nostro territorio, dello stile dell'auto e del design industriale. Grazie a tutti. Umberto Palermo, da Moncaglieri Torino. Oggi è una bella e una grande opportunità, l'asse Torino-Salerno, grazie alla volontà e la genialità di Antonio Pierotti. Oggi ci troviamo qui in questo comune per presentare Mole con Lucrezia e Vittoria, automobili, costruzioni artigianali, nate dall'officino Umberto Palermo per creare quell'intesa artistica e industriale tra le due città. Quindi io ringrazio questa splendida iniziativa per avermi accolto con grande calore come Salerno Saffare. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.